con il destro che gollo con l'osso che gollo con il destro che gollo Siamo qui in diretta dall'impianto sportivo Bombonera Club di Napoli Sparta Dam 10 una giornata super 8 formazione scatelina al centro del campo per il saluto ai propri tifosi formazioni che passano a darsi il 5 e che poi si schierano a parte i partiti del campo che da l'inizio del match da lì si schierano a sì i due capitani che sorteggeranno il tocco per la palla e per il campo Siamo fischietto campo ok si sceglie vai Ciro sorteggiati palla e campo questa da l'inizio del match un saluto e tra il più a tempo Dam 10 contro Sparta nella non aggiornata super 8 della nota cargato SK 1 a 0 per i Dam 10 che nonostante le tante assenze subito partono in vantaggio dopo nemmeno 30 secondi dal fisco d'inizio ora possiamo seguire tutta la prima frazione di gioco che si schierano a tutti ieri che si schierano a tutti ieri che si schierano a tutti ieri Il amor me quema, la musica suena, la noche di cristalli, bellezza è scena. Il amor me quema, la musica suena, la noche di cristalli, bellezza è scena. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau, ma che la notte samba. Oh la glia si un palau. Oh la glia si un palau.